A proposito di freddo, le previsioni indicano l'arrivo della neve sulle zone del centro Italia che sono state colpite dal terremoto. Torniamo a parlarne perché non si abbassi la guardia, quella gente ancora in attesa delle casette di legno. Il cielo è scuro sul centro Italia, lunedì è prevista la prima neve e per tante troppe persone che hanno perso ogni cosa nel terremoto dello scorso anno, questo sarà il secondo inverno senza un vero tetto sopra la testa, non quello della propria abitazione che per quelle chissà quanto ci vorrà ricostruirle, ma almeno quello di un prefabbricato. In burocratese si chiamano SAE, soluzioni abitative di emergenza e visto che di emergenza si tratta ci si aspetterebbe che siano pronte in tempi brevissimi. E invece no, se ne sarebbero dovute montare 3.702, ma nella realtà ne sono state consegnate solo 1.103. Solo una famiglia su tre affrontare dunque il secondo inverno disponendo di una casa sufficientemente paratetta, sia pure d'emergenza. E in alcuni comuni la situazione è ancora più difficile. Qualche dato? A Usita, zero consegne su 87 casette previste. A Visso, zero su 238. A Castel Sant'Angelo sul Nera, 11 su 63. A Pieve Torina, 40 su 208. Anche se la protezione civile garantisce che per dicembre si dovrebbe arrivare a consegnare l'80% delle case previste. Promesse? Ne hanno già ascoltate tante, molti sindaci sono esasperati. E pensare che l'estate senza pioggia avrebbe almeno potuto velocizzare i tempi di montaggio. Regioni, protezione civile, ecco dove si è inceppato l'inganaggio, ecco dove bisogna agire sulla burocrazia e fare presto.